Benvenuto in questo virtual tour, io sono Angelo Camilleri Addis, mister affitti Brianza e ti porto in visita in un immobile presentato dal manager dell'affitto Giuseppe Di Napoli. Ci troviamo all'inviata in zona piscine in un trilocale non arredato completo di cantina. Ingresso che conduce alla cucina abitabile, molto spaziosa e con uscita su balcone. Dal disimpegno abbiamo accesso anche al soggiorno luminoso con pavimentazione in marmo lucido e uscita su balcone con la vista sul quartiere circostante. Stanze comode da arredare e complete di aria condizionata. camera da letto matrimoniale con parquet lucido camera o studio con le stesse caratteristiche bagno completo di tutti i suoi elementi e con vasca e doccia per tutti i dettagli su questo immobile visita il sito www.limbiate.soloaffitti.it per la cultura dell'affitto visita il blog www.misteraffittibrianza.com Solo Affitti, affittare con sicurezza